buongiorno amiche oggi video registrato ebbene sì ebbene sì non avremo il piacere di essere in diretta ma abbiamo comunque il piacere di intrattenerci perché perché non so se abbiamo diciamo ancora tante chat a cui rispondere voi perché ancora siamo sotto 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 stimate come possiamo dire non so se il termine è giusto ma insomma ci manca ancora una mano un aiuto quindi ragazze cosa facciamo video in diretta dove vi concentrate magari io poi vi indosso qualche cappottino facciamo un giro in negozio e voi e voi continuate a chiedere sempre come sempre i capi che vi interessano volete salutare lo fate qui sotto ai commenti di questo video che poi vi leggo mentre invece tutte le richieste dove le fate le fate su whatsapp come sempre ricordiamo alle nostre amiche che siamo a villa carcina in provincia di brescia perché tantissime ancora me lo chiedete e ci trovate su tutti i social ci trovate alla pagina gabrile stabilimento donna e lì vedete tutto i post le foto i video e avete di che dilettarvi questa mattina giusto una un'amica che aveva la nostra grande famiglia mi ha detto bene adesso queste cose le a parti lì e sono ancora in arretrato di tre video li vedo subito e poi ti chiedo altre cose potete fare anche voi la stessa cosa perché i capi sono quelli che abbiamo in attesa della nuova collezione ma è vero e appena corsa qui la renatina prendere tre capi di corsa gli ho detto devo entrare in video si dice ma lo so che io poi qui quando tu fai vedere le cose io trovo sempre qualcosa anche se sono capi che ovviamente hanno iniziato nella collezione cosa vi devo dire ragazze questo è avete di che fare man basta avete di che fare grandi 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 affari come con questa borsa a 30 euro meravigliosa perché lo diciamo così abbinata a questo a questo completo che è semplicemente un completo nero che lo usiamo come basico per tutto amori miei però 30 euro c'è così è verde devo dire che davvero molto molto carina come pochette e il prezzo è fantastico ovviamente è in ecopelle non può essere pelle a questo prezzo a parte che le altre 49 euro vogliamo farle vedere cosa è rimasto praticamente nulla 49 euro sono deliziose e meravigliose quindi se io volessi oggi prendere anche questa e farvela vedere che è una delizia cioè che dire di una borsa così a 49 euro vedo che annuisce anche la nostra casa bellina questa è a 30 ragazzi esatto quella è a 30 quella lì in velluto e i nostri peli bisogna ricordare che sono rimasti questi colori lilla blu jeans bellissimo e arancione e verde che adesso lo andrò ad indossare vogliamo solo farvi vedere che cosa il nostro leggings a 39 euro e cominciano a scarseggiare abbiamo ancora una serie dalla 40 alla 54 e poi sono finiti li porterete fino a maggio ve lo dico subito ragazze questo giacchino che è stupendo è un basico e continuerà sempre a 79 euro alle borchie come vedete in acciaio in metallo e lo trovo eccezionale e poi credo che non avevo ancora indossato questa bellissima camicia con la coda dietro il colore più assortito mi ha detto al essere questo quindi potete anche potevo anche mettere questo solo che non avevo in casa la mia taglia il nostro una 42 adesso sono bene più corta davanti e più lunga dietro guardate la meraviglia di questa di questa camicia raso crepa versatene stupenda ma a soli 39 euro quindi ragazze cosa devo dirvi se non che sono grandi affari ho voluto fare tutta la base nera per cui sopra potete adattare qualsiasi cosa adesso comincio a farvi vedere magari più maniere ma ne avremmo io credo quante boh non so 20 30 40 cioè se noi andiamo ad abbinare sopra una base nera come questa tutto quello che ho in negozio noi non finiremo più giusto per dirvi che se avete questi capi nell'armadio ragazze utilizzate fate quello che vi sto insegnando in questo momento quindi addirittura addirittura quel giacchino con le borchie potremmo abbinarlo qui sopra io adesso vi do l'idea questo questo meraviglioso trench che quando arriveranno le giornate stupende primaverili voi avrete nell'armadio e guardate una seconda pelle ragazze c'è una cosa incredibile dalla morbidezza scontato da 129 a 89 euro mi ripeto camicia 39 e leggings 39 questo 79 è un basico che abbiamo ancora anche in ordine vogliamo fare quello che sto facendo ora oggi vi vi vesto a strati e così vi faccio e vi mostro come si possono utilizzare più diciamo capi in un unico diciamo momento sapete quelle giornate dove esce il sole dove in macchina avete caldo dove partite il mattino e magari non sapete come completare per arrivare a sera perché 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 le temperature variano perfetto tanti di voi abitano anche in posti più miti diciamo ormai tutto il globo è diventato mite però ci sono delle delle località dove avete la fortuna di avere magari devo dire proprio da cappotto io oggi in quest'anno i piumini non li ho ancora visti e penso che non li vedranno meno è stato un anno di zero piumini vero carte di zero imbottiti pazzesco nemmeno da acquistare allora cos'è che vi sto facendo vedere sicuramente andate a completare e a dare tepore a un qualcosa che potreste dire in una giornata di mezza temperatura posso anche stare così sicuramente così sì ma magari completata con questo giacchino e quindi qui è una cosa potrei anche tenerlo sotto mentre andiamo a perché no chi ci dice di non farlo ad indossare invece il cappotto in questo caso io scusate che c'è ancora inserito il cartellino perché non l'ho staccato l'ho preso proprio in questo momento quindi qui mi da un po fastidio quello vediamo se riesco inserirlo carte penso che in questo momento sono cartellinata allora non varrà solo 89 euro del cappotto vero no no la vostra gabri vale molto di più ragazze è quel panno elasticizzato stupendo e meraviglioso e vi faccio vedere che ho il trench il giacchino il cappotto e poi non chiedetemi se questi cappotti tengono caldo oppure no sono in panno morbidissimi potete permettervi di doppiarli come sto facendo in questo momento non ne abbiamo ancora abbastanza poi mi spoglio vi faccio vedere il contrario non ne abbiamo ancora abbastanza vedo Cate che sorride peccato con le nostre amiche in diretta ma sai che mi mancano quando faccio il video registrato non sono proprio più abituata mi manca dimmi lo stesso c'è Maria che ti manda un bacio tanti saluti dalla Sardegna tanti saluti dalla Calabria dalla Sicilia da Napoli da Genova chiedono dove ci troviamo chiedono dove ci troviamo ci troviamo a Villa Carcina dai facciamo qualcosa Cate movimentiamo questo video e questo collo ragazzi è stupendo a 30 euro vogliamo renderci conto quindi quanti cappi ho indosso uno due tre quattro e compresa la camicia quindi e sei con il leggis ovviamente lasciamo stare la parte sotto quindi ragazze cosa dire questo cappotto c'è io trovo che questo verde sia meraviglioso la fortuna di avere ancora questo quello a 30 euro sicuramente è altrettanto lo potete strizzare in vita eh ragazze mi viene in mente Gloria che mi ha detto ma com'è che non ingrossi indossando i cappi beh insomma devo ricordarvi che questi cappotti vanno dalla 40 alla 54 quindi ma e sono di una morbidezza impalpabile sono proprio anche questi coccolosi devo dire che dire dal nostro trittico coccoloso sarà anche il prezzo ragazze ma come me l'avete visto indossato bam volato abbiamo ancora qualcosa dopo facciamo un giro in negozio intanto magari voglio andare là e vi indosso un po' i cappotti allora ragazze 89 euro meraviglioso io trovo che non so non ho guardato quando cadrà Pasqua questo anno questo questo 2024 non sono ancora andata fin lì ma sicuramente fino maggio è un cappotto che metterete voi per il colore voi per il peso voi per tutto e vi ricordate tutti i prezzi sì 30 euro il pelo 89 euro il cappotto 79 euro questo ed è una meraviglia 89 euro il trench 39 euro la camicia e 39 euro il leggings chiaro stufato cosa cosa ti dicono le nostre amiche io voglio vedere che ti indossi i cappotti facciamo vedere un attimo in giro qui allora aspettate un secondino che mi ero preparata anche il nostro bracciale con 15 euro e sono poi oramai poche i nostri soggetti che sono stupendi e 5 euro quindi 15 euro la spilla e 5 euro i bracciali facciamo 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 vedere che cosa qui adesso la doni ha messo questa gioiello per la vita che è meraviglioso tutto in madre perla in perle smog ah no questo è sempre smog sotto stupendo ma io un attimo lo alzo sentite proprio come sentite la madre perla che meraviglia perché voglio farvi vedere indossato questo abito allora che cos'è un 42 44 bello poi insomma considerate che è indossato da un manichino in più ha su anche il cappotto quindi sicuramente scende anche leggermente di più ma quanto è bello con questo quindi 40 42 44 io questo spiraglio sul decolleté mi fa impazzire ok abito maglia a 30 euro ok ragazze il nostro giallo per la vita ve lo posso anche dire 249 euro stupendo meraviglioso tutto montato a mano in pietre semi preziose fantastico il nostro cappotto a palloncino lo vediamo già qua l'avevo preparato anch'io da indossare oggi sono tutto al black con una punta di verde volete scegliere di mettere il fucsia volete scegliere di mettere il bianco abbiamo tutto là poi ve lo provo adesso tolgo il bracciale perché magari poi quando andiamo su altri colori intanto lo appoggiamo qui che sul tavolo risalta benissimo tutte le nostre cinture sono bellissime a 20 euro ultime stole perché ne abbiamo proprio poche a 20 euro anche se aspettiamo che facciamo vedere questa perché ogni volta che faccio vedere un passato una stola è il bello che poi esplodete questa praticamente cosa da un lato rosa e nera da un lato vedete a base nera con il fiore e cosa vogliamo dire se io per dire la prendo a caso perché proprio a caso anche questa quella 30 la mettiamo a 20 quindi che dire se non è che è una dai ditelo voi amori miei meraviglia meraviglia stupenda a 20 euro bene la lasciamo qui appoggiamola così un attimo e finiamo col dirvi il cappottino quello a palloncino ti ricordi se c'è ancora nero no nero non c'è più finito no questo salta 40 42 44 poi abbiamo il 50 52 perché mi serviva prima ah va bene allora facciamo così scrivete 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 bravo non possiamo ricordarci il taglio di tutto soprattutto in questo momento perché continuiamo in più a riassortire a chiedere in magazzino abbiamo guardate qui una ventina di foglie di giacenze quindi noi tutti i giorni bram 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 riempiamo e riempiamo ovviamente non possono diciamo inizialmente dalla 40 alla 54 non possiamo avere tutte le taglie ok bene comunque se vi devo dire 69 euro ci credete ragazze è il panno quello di tutti i nostri cappotti ma è fantastico quello che usiamo davvero da anni nella confezione quindi è collaudato fatto potete lavarlo in casa insomma ragazze da 119 a 69 euro quando vedo che fai qualche espressione mi sembra che mi stai per dire che la nostra amica mi manca questa cosa venite qui allora questo calzone che è quello col fondo verde e il questo ho chiesto di riassortirlo perché ve lo voglio indossare c'è il zampetta con lo spacco diciamo interno e c'è il sigaretta ma io non l'ho mai indossato dal tempo che l'abbiamo tagliato quindi se ci sarà la mia taglia di solito io indosso una 42 ve lo faccio vedere queste a questo punto queste maglie questa alla manica abbiamo pochissimi pezzi a 39 euro questa è quella che sembra gommata è un jersey meraviglioso ma guardate qui questo completo cappotto con questo ne siamo 46 48 e 50 ne abbiamo due o tre pezzi a 89 euro ma guardate questa punta di verde se non è meraviglioso questo è quello che veramente abbiamo si può dire bruciato guardate guardate la favola di questo di questo fondo tra le altre cose quel velure fantastico stupendo allora 89 euro il cappotto che ha dell'incredibile costava 139 euro 39 euro la maglia e 30 euro il calzone costava 69 euro quindi più di così non so cosa dirvi amori miei venite che andiamo qui questo che cos'è non ho capito scusate che l'ho toccato io prima ecco infatti l'avevo alzato questo è il famoso gaucho ok non chiedetemi adesso le taglie perché io non riesco a dirvele partivano dalla 40 alla 54 il colore è cammello beige bordeaux verde bottiglia nero vedo che la cate fa così c'è qualche altro colore a me sembra che erano 5 comunque sia punto roma con la tasca vedete laterale elastico in vita ragazze ovviamente non è corto arriva lo vedono indossato da simona al giorno nel suo compleanno così secondo me sì comunque se vedono andare indietro nei video basta che andate sulla pagina o andate sul canale youtube anzi iscrivetevi al mio canale youtube oppure sul sito www.gabriehessabiliamentodonna.com li trovate tutti i video postati anche sulla pagina gabriehessabiliamentodonna li trovate andate in ordine di data e li trovate tutti trovate dal primo che era se ricordo bene giugno 2020 fino ad arrivare a giugno di quest'anno saranno già 4 anni ragazzi che da pian piano pian piano pian piano in punta di piedi sono entrata nelle vostre case e lì mi avete accolto come una di voi e mi avete fatto sedere al vostro tavolo e questo ragazze tanta roba e continueremo ad andare avanti così l'altissimo ce lo permetterà ragazze questi maglioncini qui e sono questi rimangono proprio pochi facciamo vedere indossato quanto è bello vedete è una lupetto morbidissima il filato è fantastico guardate proprio una seconda mano se siete un po' fastidiosa come la vostra gabrie non preoccupatevi che qui ci state benissimo da 59 euro a 39 euro con questa goccina il colore è fantastico abbiamo abbinato qui vedete una semplice cinturina 20 euro e guardate come è stata brava la doni devo dire che qui è proprio sapiente vero ha da fare questi abbinamenti di torsion con i nostri ganci vedete quindi se vi chiedete che cos'è questa è semplicemente più fili di caramelline abbinati con due ganci e guardate che cosa poi sarete voi a scegliere il cos'è che mi stia facendo? che taglie sono? che cosa? quello che è in mano sono due giusto no? si si praticamente m e questa non lo so vediamo un attimo che taglia è ma comunque avevo detto 42 44 46 sicuro aspetta che perché poi è vero che lo chiederete senz'altro allora s sm ma vista la media si dai 42 44 ok direi che la misura è quella e abbiamo anche questo colore e vi dico anche qui che misura è anche questa è un 42 44 bellissimo questo colore ragazze e soprattutto guardate come mette il risalto con la pelle e qui c'è questo cartellino che siamo obbligati ad avere vedete ad esempio quanto è bello portato così tutte le maglie morbide che arrivano figlio della taglia 52 54 e che portiamo tranquillamente anche noi dalla 42 in su queste hanno i bottoncini dietro guardate le ho divise prima giusto per farvele vedere allora aspetta un attimo queste sono quelle più svasate con i bottoncini abbiamo questi due colori leggermente svasatina davanti vedete qui arriviamo fino alla 48 tranquillamente e vi devo dire la sincera verità che questi due colori sono non belli non belli di più mi stavo dimenticando di ricordarvi che questo trencio lo abbiamo sia nero che viola sarà i colori che andranno ancora nella dopo andiamo farlo vedere anche verde verde nero e viola allora forse mi stavo confondendo e comunque a prescindere tutte queste maglie ognuna col suo modello 20 euro guardate che colore meraviglioso questa è bellissime sono poi bellissima 20 euro ma cos'è che cos'è che andiamo a prendere a 20 euro cioè ditemelo voi oggi riassortisco queste perché ragazze con questo completo coccoloso è esploso il mondo qui dentro vuoi i prezzi 30 euro questa maglia hanno data col fiocco sono rimaste praticamente riusciamo a lavorare un pochino le taglie alte ma sono d'accordo con il nostro Ale che appena finisco il video chiamo e riassortisco sia queste sia i coccolosi quindi quando voi esplorerete nella richiesta guardando questo video ma ragazze andate a vedere i due o tre video indietro perché sono quelli che vi devono portare a dire ma sì questo capo lo prendo questo prezzo è fantastico e lì vedete un po' tutto ecco perché poi la merce come vi dico è quella questo giacchino io l'ho messo là per provarvelo comunque è qui da vedere il giacchino bonton a 69 euro tutto foderato cioè voi concentratevi anche sui prezzi 39 30 e 69 vedete poi voi jeans 59 euro la nostra bellissima maglia a dolce vita 20 euro il giacchino a 79 euro guardate questa stola a 20 euro quanto è bella e qui abbiamo messo anche qui il nostro gioiello per la vita in pasta diametista ametista cristalli ionice chi più ne ha più ne metta non dirmi che sono già le tre manca un quarto manca un quarto bene allora adesso chiudiamo intanto le porte sapete come si fa qualche maglia ancora nelle taglie fino alla taglia 52 da sotto giacca molto bello anche l'idea di fare il il golfino c'è nero e bianco e il girocollo ragazze 20 euro non so cosa dirvi eccole qui i colori dai già che siamo qui facciamo qui poi andiamo tanto lo stand non è che ci sia lo stand ha messo i cappotti da far vedere allora questi sono ecco avevo dimenticato il coccio vedi dove andare a mettermi anche gli occhiali che non so più dove li ho dove li ho appoggiati adesso andrò a vedere forse li ho qua aspettate un attimo ragazze che vado a vedere dove ho messo gli occhiali non lo so doni guardi se dove trovi dove ho gli occhiali per cortesia tanto lo so memoria è giusto per tornare quella che sono quindi cos'è che abbiamo detto tortora coccio e questo è il colore perfetto anche col cappotto beige questo rosso sangue di bue che è meraviglioso verde bosco e basta perché questi sono i calzoni che sono rimasti diciamo sfusi 40 42 46 54 qui 46 e 52 questo è ragazze non possiamo farci nulla ma sono stupendi se voi volete approfittare di questi calzoni che da 69 euro passano a 30 euro cioè capite solo perché sono disassortiti e sono in punto roma il nostro il nostro cavallo di battaglia abbiamo ancora una giacca sfusa taglia 46 e tailleur guarda caso per le nostre morbidose strano ma vero non capisco il perché che sono i primi ad andare forse ne avevamo fatti anche di più guardate che colori fantastici guardate la meraviglia di questi colori giacca scontata 69 euro e pantalone no scusa 59 euro ma 59 euro la giacca e 30 euro il calzone ci rendete conto vi rendete conto che con 89 euro comprate il tailleur e la giacca costava 119 io a volte resto allibita 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 di questi prezzi tu quindi tutti i calzoni a 30 euro chiedete 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 e vi sarà dato cosa devo dire adesso qui abbiamo magari anche qualche cardigan sfuso fatto così voi chiedete gabri bussano chiedete chi è un corriere un attimo si si mettilo lì perfetto non so dove sia la doni è il corriere che deve lasciare un pacco perché qui i pacchi e infatti adesso sta arrivando anche hai preparato il tutto tu per i no 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 perché lo faccio al momento già di e già di là di là nella strada invece ancora un attimo allora abbiamo ancora l'agio adesso non mi non urlo perché la doni dovrebbe sentirmi ma non mi sente quando è ritirerà il pacco ti stavo dicendo amori miei vedete che anche se non siamo in diretta le cose che capitano in diretta capitano anche in differita di solito tutti questi uomini che bussano al vetro come se fossi chissà che cosa ma insomma non cercano me 39 euro questo cardigan possiamo prenderlo e buttarlo anche sopra come sono vestita oggi cioè vi rendete conto ragazze ecco insomma vedete un po voi c'è qualcosa anche nel nero qualche cardigan è rimasto anche nel nero sì bellissimo poi è rimasta qualche maglia così i pantaloni sono proprio pochi però insomma se vi dico che calzone del coccoloso a 30 euro la maglia 30 e il cardigan anche da vendere sfuso a 39 euro che dire oggi vi assortiamo credo che nero e bianco siano qui qualcosa nel orchidea e qualcosa nel verde ma insomma poi voi ragazze chiedete dove 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 su whatsapp facciamo vedere vado a far vedere un secondino solo i due i due altri colori del cardigan che sono questi guardate la meraviglia poi li appoggio qui aspetto che esce perché con la luce lì è micidiale giusto per essere in tema guardate qui e tutte le nostre spille piumettine c'è chi le ha chieste nere ma se le devo riassortire ragazze torneranno a 10 euro comunque queste sono 6 euro guardate quanto sono belle e questi sono i colori tan 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 i colori degli spolveri a 89 euro ok bimbe bene qui abbiamo finito il giro possiamo anche io ad esempio come faccio non far vedere per dire questo abbinamento di camicia di stola e di spilla guardate quanto è bello e magari messo anche con questo è fantastico io lo posso provare ragazze ma mi è grande lo sarei già presa mi è grande adesso vi faccio anche vedere come sta la gabi con le cose grandi visto che indosso anche quelle allora che dire è bello non è bello questo articolo è fatto leggermente ad uovo è stupendo 69 euro cate qui restiamo fino anche una taglia 54 sì 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 ma comunque come vi dico io voi portatelo e poi al resto ci penserete che lo devo dire è fantastico ecco quindi ragazze per le nostre morbidose 50 52 54 questo è una favola a tutto foderato a soli poi guardate la meraviglia questo è praticamente spennellato d'argento vedete sì 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 bello 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 e starebbe molto bene portato così guardate questo completo cosa aspettate a farlo la camicia si arriva fino alla taglia 50 quindi a 39 euro dalla 40 vedo che c'è qualche incastrino fatelo ragazze e vi ricordo a 69 euro che sono comunque anche queste un po' disassortite credo che manca la 42 tutto sommato niente di più questa camicia con la paillette perché la prenderemo e la metteremo sempre diciamo le nostre amiche che ti vuole la giacca il top il pantalone l'abito non sono scontati perché comunque sia andranno per la maggiore e sempre ok ragazze ricordo a chi non si ricordasse che la camicia come quella che indosso c'è anche azzurra e questo colore a 39 euro e la vedete che è stupenda cos'ha di essere stupenda il fatto anche che la lavate e non la stirate come praticamente quasi tutto quello che abbiamo in negozio strachiesta questa con la goccina abbiamo dovuto dire di no questa mattina parecchie di voi arriva fino alla 46 della 40 sono finite le taglie 54 però ragazze pensate alla primavera pensate a un calzone bianco pensate a un jeans pensate a quello che volete una camicia così 39 euro cioè costava 69 è praticamente impossibile da trovare con questa qualità e devo dirvi che abbiamo riassortito anche questa perché con questo colore il fiore blu a 39 euro con manica o senza manica guardate la meraviglia sta preparando gli scatoloni adesso proprio non fare rumore per cortesia è possibile grazie che siamo in diretta 40 42 sempre con la goccina ottima vestibilità sono rimaste due bianche a volte diciamo che sono finite poi tornano qui siamo solo 44 46 50 52 54 quella che mi avete vista indossata nel video precedente e ha spaccato con un jeans cos'è che lo spacca quando lo indosso io le cose ma pensa a te ma pensa a te anche il coccoloso lo sapevo io di farvelo vedere prima non è solo una questione di prezzo e cate c'è il corriere si doni viene darmi il cambio un secondo esatto ma è sorda la doni o no doni non risponde donatella può venire al box informazioni gentilmente venga venga vieni un secondo per favore tiri un orecchio vieni devo stampare due cose un attimo perché deve stampare è arrivato il è già fuori e poi ricordati che c'è un pacco da ritirare per voi vanno avanti alla porta non siamo in diretta stai più giù col telefono stai giù ecco mi riprendi anche da lì anche un pochino più giù e stavo facendo vedere questa camicia va un po' più giù col telefono che tanto mi riprendi lo stesso no perché vedo che la cate lo tiene qui vabbè prova a vedere te come mi riprendi non troppo alto stai un pochino più in basso però riprendimi tutta perché è l'importante e 39 euro questa camicia che è una favola ragazze stanno arrivando con i veriti e hanno i vostri pacchi quindi non potevamo soffermiamoci un secondo su questo su questo body che poi passerà a 45 euro da 43 è una meraviglia guardate vi è una coccola non è non lo sentite da nessuna parte lo portate solo così come lo vedete nero bianco e diciamo io il colore che vendo più in assoluto è il nude e il nero ma c'è anche bianco dalla seconda alla sesta coppa b e coppa c la vostra gabri durante le ore lavorative non è mai senza perché mi sento mi sento proprio a posto e vi dicevo che un giorno quando magari indosserò un blazer non mi vergogno a farlo anche perché c'è chi ad esempio fa tanti video in altre maniere vi faccio vedere come sta indossato la scollatura e via dicendo perché è molto 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 bello quindi accoglie il seno con un'imbottitura che non è un'imbottitura perché non ha la lunetta dentro ma da solo la forma al vostro seno quindi 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 è meraviglioso ok al momento 43 euro facciamo una carrellata veloce 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 così proprio veloce di tutte queste maglie che sono a girocollo a 20 euro guardate io ho riassortito queste e poi non ne abbiamo assolutamente più nera è fantastica bianca altrettanto che dire del rosso che dire del marrone che dire del grigio del blucino del blu dell'azzurro del verde abbiamo tutte le tonalità possibili inimmaginabili e qui abbiamo qualcosa anche come golfini questi sono dei golfini sì praticamente in questi colori abbiamo il golfino scollato a v che è delizioso anche da portare a pelle così come lo vedete come maglioncino come il girocollo lo vediamo qua eccolo qua girocollo nero beige rosso taglia 40 42 44 e non sono sono già le tre vedo che c'è qualcuno Katia puoi arrivare tu per cortesia vediamo se adesso sente la Katia Katia al box informazioni no perché così la Doni apre di là perché c'è una ma sono già le tre quindi andrai a intrattenere la coppia di signori che c'è fuori Doni e prendimi anche il pacchetto che c'è sulla porta gli dici un attimo che finiamo questo video ragazzi oggi va così voi ricordatevi dei capi che vi sto facendo vedere a 20 euro che sono incredibilmente belli e questo coprispalle dico questo coprispalle che poi credo sia l'ultimo comunque a 20 euro e dico 20 euro qui abbiamo allora giacche marrone verde e nera non chiedetemi in questo momento le taglie me lo chiederete quando sarete su whatsapp cioè nel vostro camerino ha qualcosa da dire alla nostra amica? oh no tranquilla sto ancora respirando sì a volte ci si sente sì? eppure sono abbastanza vabbè ragazzi è 49 euro nera marrone e verde pantaloni un po' sfusi a 39 euro cosa devo dirvi li vedremo insieme io vi rinnovo e forse al prossimo giro lo indosso questo abito meraviglioso così lo vedete e poi non ne avremo più ok 30 euro questo abito è una delizia indossato io ve lo farò vedere portato con o senza la cintura con o senza la stola al prossimo giro magari proviamo quello ragazze questi sono i colori degli abiti quelli come quello marrone vedete hai detto ai signori solo due minuti andate a bere il caffè ah ecco perfetto allora stavo dicendo questo colore è marrone poi abbiamo queste due gonne a 30 euro e sono una meraviglia e sono praticamente dei tubini fantastici con lo spacco dietro del suo arrivo le avevate già viste anche forse in qualche stagione precedente ma sono talmente belli che praticamente i fornitori si inseguono l'un l'altro secondo me e questo è un altro fornitore però le ha rifatte uguali andiamo un attimo a vedere i cappotti e poi ragazze devo chiudere perché c'è una mica fuori che ci aspetta ecco allora io avevo preparato questo perché volevo farvelo vedere indossato credo di farvelo avervelo indossato rosa ma volevo indossarvelo in questo colore perché è una meraviglia io trovo che questi cappotti siano fantastici voi ricordatevi sempre come sono partita con tutte le cose doppiate via dicendo ma guardate questo cappotto ha 89 euro quanto è bello bianco nero un verde che non è salvia e non è tiffani un bellissimo verde e un rosa cameo 89 euro volete vederlo anche nel nero ve lo faccio vedere anche nel nero così facciamo total black e l'avevo preparato qui e poi magari ci salutiamo ragazze ci vediamo in un altro video e voi intanto chiedete a tutto quello che avete visto oggi perché i prezzi sono pazzeschi anche quello che vedete nei video precedenti guardate questo cappotto come si fa a non avere nell'armadio un un cappotto che costa meno di una maglia perché ci sono maglie che costano praticamente più di 89 euro c'è un traffico qui di fuori oggi tutti che ci cercano tutti che ci vogliono capo eh sì la vostra gabrie è così è così si mi rappiscono volentieri questa mattina sera per fare che cosa per farvi stare bene tra le altre cose ebbene sì io vi indosso anche questo sopra questo trench che è quel famoso copri tutto che abbiamo messo cate adesso qui boom a 39 euro 39 euro è questa questa specie di giacchina cardigan sembra bouclé è un jersey stupendo meraviglioso con un filo doratino fai vedere se si vede fai vedere se si riesce a vedere si riesce a vedere all'interno si riesce a vedere che qui ha una parte di dorato comunque c'è donne fidatevi c'è con questo cappuccio che è solo una parte di collo io adesso lo sto indossando qui sopra ma poi lo portate singolarmente giusto per farvi vedere quanto è bello abbiamo sml e poi sono finiti giusto sì e poi ml xl quindi fino alla 54 in questo meraviglioso colore fate all'inverso vestite tutte chiare sotto e poi mettete questo sopra anche questo sarà quella cosettina che magari quando siete anche in estate un po' nì avete bisogno di coprirvi appena appena la utilizzate 39 euro quindi ragazze più di così non so cosa dirvi e non so cosa darvi devo dire che avete di che fare man bassa vi indosso magari ancora un cappuccino veloce 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 facciamo questo colore per far vedere adesso magari tolgo un attimo anche le nostre i nostri fili di caramelline a 8 euro guardate la meraviglia come brillano mettiamole qui fa molto bene questo tipo di verde anche con il con il fucsia giusto per farvi vedere questo cappottino 7 ottavi che scusate se è poco ragazze 69 euro dico 69 euro le tasche in maniera sartoriale sono da scucire ci sono sono solo da scucire e guardate questo cappotto io potrei allacciare il sotto posso tenerlo doppiato posso fare che avanzi posso togliere il sotto posso fare quello che più ci aggrada ma voi dovete vedere tutti i colori questo lo abbiamo ancora disponibile pochi questo colore nero bianco e questo bellissimo laguna lo chiamiamo così questa stagione l'hanno chiamato laguna partivano dalla 40 alla 54 ragazze chiedete perché ci sarà ancora la possibilità di accontentare tante ma tante ma tante ma tante di voi mi infilo a caso un giacchino e poi chiudiamo perché ragazze ho fuori davvero gente che aspetta mi sembrava di aver iniziato anche abbastanza presto questo 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 video ma insomma ragazze dai poi ci troviamo e vi aspettiamo su whatsapp questo ad esempio io sono partita con l'indossare la 46 quello la che era over e adesso indosso una 40 di questo giacchino fate poi voi per dirvi che poi sceglierete voi come portare più piacevolmente i nostri capi il giacchino bon ton cosa devo dirvi se non è bello questo giacchino a soli 69 euro foderato è quello che vi ho fatto vedere prima nel bianco lo abbiamo questo lilla glicine meraviglioso ovviamente nero per fare un total black e questo bellissimo blucina blu indaco stupendo e meraviglioso che dire ragazze a soli 69 euro questo è il palloncino che avete visto la quindi non ve lo sto a far vedere molto molto carino anche questo che a dirvi il vero a 89 euro c'è azzurro un rosso due pezzi solo nero e tra le altre cose c'è anche bianco e non ce l'abbiamo qui ora mica amiche mie amiche la vostra Gabriele vi deve salutare perché davvero non sto bene quando c'è gente fuori che aspetta e questo video è andato così ma sicuramente c'è da estrapolare tantissimi 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 capi tantissimo offerte meravigliose al prossimo giro ne facciamo uno magari ricco di outfit che a voi piace tantissimo la vostra Gabriele cosa cos'è cosa non sento ah sì ve lo dico io vi vuole un mondo di bene e voi a me ciao pupè alla prossima ciao ciao ciao